A Colli a Volturno le usanze legate alla ricorrenza di Sant'Antonio Abate stavano quasi del tutto scomparendo, ma il gruppo storico ha fatto in modo che questo patrimonio di tradizioni e valori non finisse in soffitta e così sono stati rispolverati i sai, le icone e gli stornelli e con tanto di asinello al seguito si è ricominciato a girare per le vie del paese portando ovunque una ventata di allegria. Abbiamo preso questa tradizione dal 1970-71, gruppo storico perché è il gruppo più anziano di Colli, quasi sessantenni che giriamo per il paese per portare in giro questa tradizione. Questo entusiasmo è stato contagioso, grazie anche all'impegno dell'associazione socioculturale Forza Giovane i gruppi si sono moltiplicati così come giorni di festa. Nel frattempo la confraternita di Sant'Antonio Abate ha raggiunto obiettivi fino a qualche tempo fa impensabili. Siamo partiti con dei progetti ambiziosi che la confraternita ha portato a termine, andando prima dal Papa, poi ha realizzato il progetto che ci ha visto i protagonisti a gennaio a Filadelfia e con l'augurio e la speranza, ma sicuramente poi la riuscita anche del nuovo progetto che sarà quello che ci vedrà coinvolti l'anno prossimo, gennaio 2018, che ci vedrà a Montreal. Quest'anno la festa è stata ancora più speciale perché da Filadelfia sono arrivati una ventina di collesi desiderosi di rivivere le emozioni di quando erano ragazzi. Dopo 46 anni sto rivedendo i tempi di una volta di Sant'Antonio Abate e sono rimasto talmente sorpreso dell'accoglienza di tutti i miei cittadini, paesani e parenti e della festa di Sant'Antonio Abate. L'arrivo della comitiva dagli Stati Uniti è stata accolta positivamente dall'amministrazione comunale al punto da ispirare anche un progetto incentrato sul cosiddetto turismo di ritorno. Nascerà anche una vera e propria agenzia che noi istituiremo qui a Colli a livello comunale per consolidare, rinforzare i rapporti con gli Stati Uniti, con gli emigrati, non solo in America ma anche in ogni parte del mondo in vista anche del fatto che adesso si va verso la terza generazione di emigranti e quindi proprio per evitare che questo legame vada ad affievolirsi promuoveremo tutta una serie di iniziative che consentiranno anche a coloro i quali sono nati all'estero e quindi diciamo da genitori di origine colleso di vivere a stretto contatto con le proprie origini, con il nostro paese e di sentirsi veramente parte integrante del paese e della comunità locale.